Musica Sono molto felice di aver incontrato quest'anno per la prima volta questo premio meraviglioso in una città che vale sempre la pena di scoprire e riscoprire, c'ero già stata molti anni fa e l'ho trovata in splendida forma. Sono felice di essere qui perché se si vuole fare lo scrittore nella vita un'occasione importante è quella dei premi letterari, mettersi alla prova con delle scadenze, con magari la lunghezza di un testo, con il timore del giudizio degli altri che in qualche modo è un po' una prima prova, è una prima prova come se si avessero i primi lettori e quindi sono stata molto felice di poter leggere e valutare i racconti finalisti di questa 25esima edizione del premio e devo dire che c'era un livello di scrittura molto bello e io mi voglio augurare che tra qualche anno uno degli scrittori che ho incontrato questa sera, degli scrittori Nerba che ho incontrato questa sera, magari lo ritroverò accanto a me come collega perché sono sicura che da queste situazioni positive, piene di energia bella, possano venire fuori delle storie con un lieto fine, ecco. Quindi grazie, grazie a voi tutti dell'ospitalità e della bellezza che mi avete messo a disposizione in questi due giorni. Grazie a tutti.